Nella casa cosiddetta dei pittori al lavoro possiamo vedere i pittori che nel momento dell'eruzione lasciano tutto così com'è. Dunque alcuni ambienti sono non finiti, semi finiti. Questo è stato dipinto in maniera meravigliosa, con questi affreschi, anche con delle scene che non trovano confronti diretti a Pompei. Ed è un piccolo ambiente situato tra l'ingresso, l'atrio della casa, e il giardino sul quale si apre una finestra. Dunque possiamo immaginare questo spazio utilizzato come un piccolo studiolo dove forse poi si ricevevano anche degli ospiti e che doveva essere rappresentativa, essere visibili già dall'entrata in le pitture e poi anche il favoloso giardino che stiamo al momento studiando, restaurando e poi ripristinando.